Ciao a tutti da Sanni, oggi sono di nuovo nella strada dell'altro video, quella delle More, per oggi devo fare un sacco di chilometri perché devo cercare quella Lidl che vi avevo detto l'altra volta. C'è molta strada da fare e ho portato anche lo stradario perché non so proprio dov'è, se no vi ho paura di perdermi. E camminiamoci, mi provo in una strada vicino alla Lidl, però ancora non ci siamo e non ci capisco nulla. Dovrebbe essere questa strada là in fondo, proviamo eh, aspettate perché qui non ci capisco nulla. dobbiamo essere vicini, c'è qui il cartello, proseguiamo. A Legge siamo, è questa strada qui, qui accanto c'è la Lidl, vedete qua? Sono sotto una palma bellissima che mi fa ombra. Benissimo, ci siamo alla meta. D'acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Va bene, rincamminiamoci perché è tardino. Ok, che poi mi si sta per scaricare le pile, insomma il cellulare. Va bene, ciao, ci vediamo, non so se faccio altri video, ciao, ciao, se ritrovo la strada. Ok, ho ritrovo la strada, ok, ho ritrovo la chiesa davanti dove sono andata l'altra volta alla missa, quindi tutto ok, c'è ancora dei chilometri di casa mia, però sono strade conosciute, è facile arrivarci via. Ci ritorno, ci ritornerò anche altre volte, va bene, vi saluto, ciao, ciao, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.